Misure cautelari per 25 milioni di euro sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Catania e dall'Agenzione delle Dugane nei confronti di otto società, due ditti individuali e tredici indagati. I reati contestati sono sottrazioni all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici, infedele dichiarazione dei redditi e emissioni di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione dei redditi. In particolare venivano introdotti illecitamente sul territorio nazionale ingenti quantitativi di prodotti petroliferi che venivano poi rivenduti illegalmente a basso costo.